prima sera carbossi l'ho tenuto su mezz'ora e faccio il trattamento di cinque giorni questo qui adesso abbastanza rigida eccetto questo che non si era toccato da un po i cinque giorni prima sera carbossi e poi mi saprò dire biselfi trattamento intensivo ehi la ieri sera vi ho fatto vedere che ho fatto la carbossi vi faccio vedere insomma la carbossi co2 e la maschera carbossi della della biselvi biselvi biselfi e c'è questo trattamento che funziona così carbossi e dip selfie si adesso la scatola non ce l'ho poi di nuovo carboxi e qui c'ho laghetto dopo che farò questo se sarò madonna perché fa freddo stasera è freddo farò questo e dopo non sto tanto per la quale domani magari a seguire questo video vi racconterò qualche cosa se ho pulito molto bene la pelle però è anche carbossi va bene togliamo il tappetto perché la vita è così dura questo ve l'avete visto fare già un sacco di volte dopo di che dopo questo farò sicuramente un po di terapia led non so con quale tools perché vi devo raccontare un po di novità sì ormai sono diventata la signora led e va bene così io comincio sempre da questa zona che la zona mia più cioè con le imprefezioni che stanno diminuendo per carità sono diminuite tanto e poi vado sulle altre parti continuo e ci vediamo dopo ecco finito quello che volevo dirvi ogni confezione di ultimo diestro e poi ci railroad di United i합 e non fra�� persone magari tu contro un'altra cosa anche GIVE наход Ford perché poi si difa a seguire insomma per un periodo si alterna carbossi una sera in carbossi una sera e un dip la sera car bossi una sera steep sul fare un trattamento d'urto di cinque volte, quattro o cinque volte. Ovviamente toccando alcuni punti mi è venuto da star nutire come quando ci togliamo le sopracciglia, insomma la stessa cosa. E poi vorrei fare un po' di zip ma no, non vale la pena. E niente, lascio così per un po' fino a farlo assorbire e poi metterò questa, il Miracle, che c'è la bustina anche, che è inclusa nella confezione. Ecco qua, terapie intensive. Comunque lo zip, il lip treatment è proprio pazzesco. Vediamo se ve lo faccio vedere domattina. The day after, perché non ho la scritta che dice the day after. Allora, dopo tutto il trattamento non ho fatto la lampada led perché il siero era abbastanza sticky, quindi sono andata a dormire e l'ho eliminato stamattina e ho riutilizzato una spugna della Coynor, questa che è antibatterica, anti tutto, elimina molto bene. Vabbè, poi ve ne parlerò, ne avevo anche un'altra. Costano un prodotto in UK. Coynor è quello che fa le spazzole, anche i pettini, eccetera. Stamattina voglio fare le labbra. Ieri sera avevo questa parte più alta, quindi insisterò più su questa. Metto questo qui, ma questo è perché non so se vi ho fatto già vedere il trattamento labbra della zip, che si riferisce, oddio, si riferisce sia alle labbra sia nella parte superiore. Il codice a barre che abbiamo così. Lo metto con un dito solo, perché comunque io vi dico una cosa, fra il vecchio zip, il vecchio zip GX, che era di porcellana, è questo che ha una uno strato, non so, di pseudometallo, è facile che il siero possa danneggiare quella parte, quindi insomma, e poi non non si aggrappa bene. Insomma, io su quest'altro telefono ho il coso. All right, make sure for this treatment that you apply your Conductor Gel, che si riferisce all the way around your mouth, your vermilion border, and on your lips as well. We're going to start with the lower lip. Here we go. And then we'll wait for the vibration that comes after one minute, and then we move to the upper. Dopo un minuto, che si fa questo, è una leggera micro-corrente. And you want to kind of stay on the lip area with both of your globes. I'm just trying to show you the technique that you want to really... I'm just trying to stay on the back of the lab, right? Ok, so now with this, I will stay on one side and then go to the other, because the upper lip, for a lot of people, there's one side that needs more attention than the other. So you do, you want to, you want to know the difference. If you're perfectly symmetrical, you can definitely treat the acupuncture like this, with the vibrations. But this just makes me feel like I have more control over how much and how long. you can do, you can do? Because it's not... ... ... ... ... ... ... ... ... ho finito, lei no, forse devo andare su questa, perché questa era la più alta, vabbè, comunque, si vede, si vede, che stupida, dovevo alzare questa, sono andata ad alzare questa, sai che vi dico, che lo faccio un'altra volta, perché si può fare, mi sembra che qualche cosina abbia fatto, ok, vi annoierò, ma io devo fare il lifting, il lifting treatment, e quindi lo faccio, magari poi per voi ve lo ucciscerò, non l'ho messo sul collo, ma non faccio il collo, allora, inizio il trattamento, con la Zip Halo, potete prendersi la carta e usare le lift treatment, semplicemente, mettere il crilo allo sul cuore, e non ricordate che è sotto la jawline, la corsa, posso sjungci l'ho, potete Atene, potete ci spettare, a sentire il trattamento, When you hear a little vibration, that means do another up and out. This is all you have to know. Up and out with your strokes. And then when you get to the top of the forehead on this side, just start again. So we're just going to be treating the first side right now. And when you're halfway through, your device will give you a single tone to let you know, go to the other side. So you don't have to think about time or anything. Your halo is not working in sync with the video. The video does not control the device you do. So as long as you're hearing your vibration, that lets you know, do another upward and outward pull. And you just continue along. Every time you get to the top, you just move back on down and repeat. Easy breezy. This is going to give you an immediate lift. So you'll see how it's already starting to really give me that contour right there. The one little zone to avoid is under the eye. That's all you need to stay away from. And I'm going to go with my eyes better. But I'm going to go on the side. That's all you need to check. Look at my risk and danger. Here's it's about. Make sure you always keep two silver globes in contact with the skin. Get the ring of it, you just move along, really easily, and always when you get to the top of your one side upon the forehead, you just come back down and start again. You're going to hear two beeps when the treatment's finished, your halo. I do it like this, without the microcurrent, but anyway, I can go. I would like to have this serum on the face because I really like it, but I use this sponge to eliminate it, also because now I'm going to put the serum of vitamin C. Ecco, eliminato così, e adesso sciacquo il vino. Ecco, la vitamina C, io ho sempre la pelle, sempre molto, molto, abbastanza umida, sempre. Quando metto sia la vitamina C che, ecco, la vitamina C, pizzica questa mattina, leggermente, uno per il trattamento di Deep Tensor, perché ecco ho fatto il Deep Tensor. Ricordate che questo trattamento d'urto che si fa con la carboxi di Biselfie, quello che avete in una scatola di Tensor e quello che avete in una scatola di carboxi dura appunto 5 giorni, perché carboxi ha tre trattamenti, tre trattamentini, e il Tensor o il Deep o quell'altro, ha due trattamenti, si usa una fialetta sola. Ecco, vabbè, procediamo con la vitamina C. La metto subito nel coso per poi andare in frigorifero. Dopodiché metto, stendo, l'acido iauronico Rich, che io ho preso una volta, loro probabilmente avevano visto nei miei ordini precedenti che la pelle umida, che lo avevo acquistato, me l'hanno mandato. Dicevo allora che non vedevo molta differenza, ma che mi mancava un acido iauronico che adoravo. Sono tutta rifatta. Quello che avanza va sulle mani. Dopodiché sempre sulla pelle umida metto niacinamide. Io una mattina, sapete quando si fanno i cocktail, però questo, di solito la niacinamide la metterò anche dopo la vitamina C. Insisto su queste aree perché è un acinamide, imperfezioni e macchie. E poi stendo sulle mani. Poi metterò qualcosa per sigillare cosa metto oggi, per sigillare un pochino. Vabbè, lo vedo dopo. E' grigio. Sapete che faccio? Mi sento abbastanza... Mamma mia! Mi sento abbastanza tuggida e bella, per cui metto la mia protezione solare. di Beauty of Joseon e tanto vado tranquilla. Come bloccare? Stamattina non faccio altro perché insomma dopo il trattamento ieri sera e niente. Può darsi che durante il giorno, nel pomeriggio, farò la lampada a led. Vado sempre qua. Queste cose dell'oscuro mi succederanno a Shanghai. Ma ieri era una giornata di sole che spaccava le pietre. Oggi è prevista pioggia. Cioè pioggia ce n'è già. Ma, insomma, casomai dovesse cambiare qualche cosa. Ed ecco qua. Facciamo così. E questa è la pelle di una donna rifatta. da sera a mano. Baci.